Salve a tutti signori, ben ritrovati su Pausa Caffè in compagnia di Max e rieccoci qui per parlare di gossip in generale. Parliamo di una coppia, una coppia di cui non si parlava da tempo, ma ricordiamo che stanno insieme da anni, e parliamo di una delle coppie più affiatate della tv, ditemi voi se poi non è così. Eppure tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova qualcosa sembra bollire in pentola, adesso capiremo di che natura, ma così lo ha raccontato direttamente lei nel corso del programma Nei tuoi panni, programma che va in onda su Rai 2, di Mia Seran. Un amore il loro nato al programma Ballando con le stelle, a sua volta. La loro era di fatto una coppia di danza, ma poi quell'esperienza piano piano li ha portati a diventare sempre con molta calma una vera e propria coppia, nonostante lo scetticismo iniziale, nessuno credeva in quella coppia. Sono stati proprio i due a raccontare che all'inizio della loro relazione, beh, in tanti non credevano, erano scettici. Proprio perché un amore nato sotto ai riflettori sembrava qualcosa che potesse durate giusto il tempo delle luci della ribalta. E invece no, o almeno così sembrerebbe. Perché, spiega Natalia, nell'edizione in cui è venuto Massimiliano, ci sono state tante ragazze bellissime, lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con tutte. E ancora, ci provava anche con me, però io conoscendo il programma so che c'è sempre un'intensa unione nella coppia e non per forza e amore, ma anche solo per l'agonismo e la competizione. Ho messo le mani avanti e la prima volta che siamo usciti è stato dopo la fine di Ballando. I commenti di Natalia non si fermano certo qui. Massimiliano? Non mi fido, ma lo lascio libero. Io non ero subito sicura della relazione con Massimiliano, dovevo capire se quell'unione era seria o se era la complicità del ballo. Lo capii quando lui mi chiese di andare a cena con dei suoi amici del nuoto, dopo la fine del programma, per me era un passo importante, era qualcosa di più interessante. Non mi fido ancora di lui. E ancora, non controllo niente, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai. Stella del nuoto italiano e mondiale, Massimiliano Rosolino è nato a Napoli nel 1978 da padre italiano, noto ristoratore napoletano e madre australiana. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo dotato di straordinaria energia, infaticabile e dotato di un notevole self-control.